Bene, bene, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo video e vediamo, vediamo sette cose che fanno male a un uomo che ha giocato con te distruggi il suo ego prima di affrontare il tema però seguimi, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video metti un like se il video ti piace, condividilo con i tuoi amici e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione anche di un caffè ebbene, certo, se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer e selezioni l'abbonamento che preferisci ma, ma, veniamo al tema sette cose che fanno male a un uomo che ha giocato con te distruggi il suo ego allora, come fare a far male a un uomo che ha giocato con te che ti ha preso in giro, che ti ha umiliata intanto partendo da un presupposto che nulla ti può fare nessuno ti può fare qualcosa che tu non gli hai permesso di farlo quindi la radice del male è quella e se non lo capisci non riuscirai mai a liberartene questo posso garantirti, non ci riuscirai mai se vivrai di attaccamenti oh, ma io lo voglio, io lo voglio, io lo voglio comunque e allora sei una povera mentecatta una povera sciampista, una povera derelitta che non riuscirà mai a far innamorare nessuno non riuscirà mai a far innamorare nessuno quindi la prima cosa in assoluto che devi fare è prendere consapevolezza che sei tu che gli hai dato potere non è che uno con arti magiche ha un potere per cui, uh, ti, ti, eh no, sei tu che gli hai dato potere quindi questo potrebbe essere, come dire, umiliante, frustrante da un certo punto di vista perché uno pensa, eh, sono stato proprio una cretina sono stata proprio una deficiente a far questo ma prendere questa consapevolezza ti dà però anche una sicurezza che come tu gli hai dato potere ti lo puoi anche togliere perché è una cosa che gli hai dato tu non è un potere che ha lui se ci fosse una persona che avesse un potere che ta, mi fa innamorare e quindi poi mi tratta male io accetto perché sono innamorata perché lui mi ha fatto innamorare e allora io non ho potere, no e cosa faccio? invece, prima cosa, acquisisci la consapevolezza che sei tu che gli hai dato potere sei tu che gli hai messo sul piedistallo e allora devi toglierlo! questa è la seconda cosa che devi fare devi toglierlo dal piedistallo perché ce l'hai messo tu! toglierlo dal piedistallo cosa vuol dire? la terza cosa vuol dire che devi utilizzare l'energia Thanatos perché noi abbiamo due tipi di energie le energie che sono già di freudiana memoria Eros e Thanatos Eros è quello che ci fa innamorare perché vuole portarci alla riproduzione della specie al proseguimento della specie mentre Thanatos è l'energia che difende noi stessi fondamentalmente più l'aggressività e ci fa disinnamorare perché vuole proteggere noi stessi ora quindi devi dare forza a Thanatos per distaccarti per dare forza a Thanatos devi iniziare ad avere dei pensieri negativi su questa persona negativi proprio come persona svalutarlo, squalificarlo questa è una persona che non vale niente è un coglione, è una persona che non vale e sono io che valgo questo non vale niente questa è l'altra cosa che devi fare dopodiché quando hai consolidato diciamo queste tre cose devi iniziare a giocare a giocare la partita e come ti giochi la partita? beh, quarta cosa che gli farà male sicuramente squalificarlo rispetto ad altri uomini quindi perché tanto ogni tanto ti cercherà tu dirai che non ti cercherà per portarti al parcheggio del cimitero no, guarda ho già un appuntamento con tizio che è un vero uomo per dire, no? ma dovrai intenderlo lui poi dovrai come dire dovrai riportargli qualcuno che non che hai parlato male di lui perché se qualcuno gli riporta che tu hai parlato male di lui parte che ti squalificheresti tu e poi sembrerebbe diciamo come dire che che lo fai per rancore invece devi parlare bene di qualcun altro questo è e farglielo percepire attraverso magari persone attraverso i social perché parla bene di un'altra persona e come dire se tu hai la panda vecchia brutta e scassata e io ti dico guarda che la tua panda fa cagare beh certo innesco il meccanismo difesa tu dirai guarda non è questo che parla così per l'invidia ma se io elogio la Mercedes che c'ha a tizio invece la Mercedes nuova la tua panda scassata diciamo da catramista e beh ovviamente tu penserei alla tua panda da catramista ma io non sto la tua panda manco la più in considerazione però sto parlando della Mercedes nuova quindi se tu elogi un'altra persona come uomo e come maschio beh e se qualcuno gli dirà ah sai sì sta uscendo con un tizio ah sto dicendo veramente che si trova benissimo che è un maschio virile tra l'altro perché poi le cose circolano è anche un uomo di valore eccetera eccetera è come se dicesse a lui sei un maschio impotente e sei un uomo che non conta niente e gli uomini maschi in generale tengono due cose nella loro reputazione la reputazione come maschio maschio inteso come uomo da un punto di vista però sessuale diciamo così e è uomo nel senso di realizzazioni no? nella vita nel lavoro eccetera questo non dargli indifferenza e come dire utilizzare antagonisti che siano migliori di lui come maschi e tu come dire lo dissi non è che è come uomini e far sì che da lui perché poi lui percepirà che questo è vero se tu gli darai indifferenza se tu non lo considererai più se tu lo tratterai come sempre con gentilezza e tutto ma lo tratterai come tratteresti il figlio del portiere di come tratteresti il catramista che mette che asfalta la strada sotto casa tua e quindi devi trattarlo come tratteresti il catramista che asfalta la strada sotto casa tua e questo è quello che devi fare questa è un'altra cosa che lo colpisce questa è un'altra cosa che ti posso garantire che lo fai innamorare questa è un'altra cosa che ti posso garantire che gli toglierai il sonno perché andrai a distruggere il suo ego e le persone che basano tutto sull'ego si sentiranno diciamo come dire squalificate andrai andrai a togliere il vitello d'oro e chiunque posso garantirti nel momento in cui si rende conto che una persona che prima lo valutava bene se poi non lo valuta più è perché pensa che ha trovato un altro totalmente decisamente migliore quindi la distruzione dell'ego lo farà stare male e quindi non avrà neanche più la possibilità di giocare con te perché si renderà conto che come maschio vale poco e come uomo vale ancora meno e quindi cambierà il suo atteggiamento a seconda della persona è probabile che vorrà dimostrare a se stesso di riuscire comunque a conquistarti e potrebbe essere che inizierà a fare delle cose per te e da lì allora dal momento in cui inizierà a fare delle cose per te si ribalta la frittata perché da quel punto di vista lì allora inizierà a coinvolgersi e più cose farà più si coinvolgerà bene metti un like se il video ti è piaciuto iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video condividi il video con i tuoi amici e ovviamente se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video tastino super grazie per una piccola donazione se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai nella home page tastino abbonati che sta vicino a tastino iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare per il computer e seleziona l'abbonamento che preferisci seguimi anche su tutti i miei social Instagram Massimo Tremasco Ufficiale TikTok ti do appuntamento al prossimo video ciao a tutti benvenuti al prossimo video al prossimo video